Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Kaladesh Kaladesh Prima di tutto uno spam ed obbligo, nel senso che ho aperto il canale Telegram per restare aggiornati sulle novità del canale E qui sotto in descrizione, ma non l'ho ancora specificato in nessun video Quindi se per caso voleste aggiungervi al canale Telegram, lo trovate qui sotto in descrizione Solitamente sarà un pochettino più aggiornato di quanto non tenga aggiornato Facebook Anche perché, detto tra noi, l'applicazione di Telegram funziona, Facebook è programmato da far schifo E poi per di più la maggior parte della gente non vede neanche quello che è pubblico Quindi si perde nel nulla, o sganci i big money o niente Quindi niente, qui sotto troverete il canale Telegram E buttiamoci sulla prossima battaglia Determinata a liberare sua madre, Chandra si infiltra assieme a Nissa in una prigione nascosta Le due place walker ritengono che Pia venga tenuta prigioniera in questo luogo Riescono quindi a penetrare nel carcere solo per scoprire che si tratta di una trappola Al comando delle forze del consolato in attesa di catturarle c'è niente meno che il capitano Baral Lo stesso uomo che perseguitò e uccise il padre di Chandra Dobbiamo dire che Chandra se ne andate a cercare Io ce l'ho abbastanza con Chandra Poi voi lo spete Allora, lottatore voltaico Fulmini imbrigliato Bellissima con questa immagine della scimmietta che si mangia all'artefatto Purtroppo siamo messi un po' malino Proverai a pescare una nuova mano E siamo messi peggio ancora Tento ancora l'ultima Schifo Faccio che ricominciarlo Sono onesto con voi perché Piuttosto che perdere per avere un mazzo Cioè una mano schifosissima all'inizio E caricare un video brutto Preferisco ricominciare il duello E partire da una situazione più decente Vabbò, questo giro proviamo a tenere Abbiamo pochissimo male e tutte creature costose Però proviamo Più che altro sono tini incantesimi Abbiamo solo due creature Di cui una molto costosa E una abbastanza costosa Ok, ci è venuto il servitore del flusso 1-1 Che non è troppo male Cioè Un Mana generica Un mana verde Giochiamo questo Tanto non possiamo giocare niente Ma non la vedo bene Avrei dovuto cambiare di nuovo mano Ma Avevo paura che tanto meglio Non potesse andarmi Allora Saggio del diritto di Shaila Quando il saggio del diritto di Shaila Entra in campo di battaglia Otteni tre segnalini di energia Preferisco questo Mi dà due segnalini di energia Ma è un 2-2 Abbiamo un mazzo questo giro Che aggiunge parecchi segnalini di energia Da quanto visto Rispetto a quello della scorsa volta Che non ne aggiungeva tantissimi Ok Sempre la sentinale di Junji 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 Un altro servitore del flusso Non abbiamo mana Però Architetta degli indomabili Ah ma questo posso farlo solo utilizzando il servitore del flusso Giocarla E non so quando Però effettivamente potrei usarla in futuro Prima di giocare Ma non su questo turno Questo cosa fa? No ma non lo vorrei usare adesso Mettere un altro servitore del flusso Sì Sarò un po' banale ma Andiamo sui 2-2 Che sono un pochettino più forti Del 1-2-1 Questo mi dà più energia Ma tanto per ora non ho Carate che consumano energia Ma salterei anche l'attacco Visto che quello è più forte Ma tanto quanto costa? 2-1 Ah ok È più costoso Ah bisogno di più mano Non credo che sia un cerco tecnico Dire più costoso Pesca 2 carte Cucciolo di zanna lunga Che può essere un'ottima cosa Posso potenziarlo con un po' di Ah mi tappa quello Ok Posso potenziarlo con un po' di Energia Adesso che lui ho tappato Andrei anche ad attaccare infatti Non è power eh Quel tizio là Però se riesco a Iniziare a infliggergli danno L'ottimo sarebbe avere Una carta che gli aggiunge Travolgere Perché a quel giro Infliggerebbe danno Più facilmente Al nemico E quindi prenderebbe Però dubito di avere Cioè se avessi una carta Che gli aggiunge travolgere Diventerebbe davvero Sgravio Ok 1-2-2 In cima Sì perché non ho mano Ma è più che altro Andrei a distruggere questo Questo artefatto qua Così andrei ad attaccare Con quello Sì Poi vado ad attaccare Con questo Aia Fregato Beh è meglio che mi abbia impedito Questa magia qua Che non qualcosa di peggio No Dovrei usare Delle energie Per giocare Quello Non so se Uppare ancora di più Questo Sì dai E andare ad attaccare Con questo E questo Questo ci muore Di sicuro Però almeno Non mi uccidono Il cucciolo Lo fa passare Mi dà due energie Facendolo passare Me lo potenzio Ancora di più Ok Ho perso Una creatura Però Non ho capito Come hai ragionato Sinceramente Aia Volare Non mi piace Non ho niente Con volare Questo Trovo Potrei effettivamente Usare questa Per tirare giù Quella Con volare Perché non ho niente Con raggiungere Cosa Sì Ci sta Però aspetta Questo è un artefatto Sì Allora aspetta Un attimo Posso usare Questo Per distruggere Quella Yeah E uperei Ancora Questo Con l'energia Che ho appena Andato a prendere Ora con 5 Dovrebbe Poter Parare Entrambi Anche se mi blocca Con entrambi Ok Decidi di perderci Un artefatto Ottimo C'è ottimo Fino a un certo punto Perché non posso Potenziarlo di più Però per ora Sono in una situazione Di vantaggio Ok Mi infligge Due danni Ma non è un problema Aia Volare Volare di nuovo Quel fai tornare tutto in mano Non mi piace per nulla Avrei bisogno di energia Per usare il fulmine imbrigliato Perché questo non è un artefatto Vero o no Questa ho potuto giocare La prima Effettivamente Di giocare il mano Gioco questo Poi non posso Usare il fulmine imbrigliato A meno che Questo costa due Questa mi chiede Uno di energia Quindi me ne resterebbero due Due, tre, cinque Non basta per ucciderlo Dice di potenziare lui Però Non posso usarlo Né in difesa Né in attacco Se lo potenzio No Preferisco Tenermi le energie Per usare dopo Il fulmine imbrigliato Ogni Oddio Ogni suo inizio di mantenimento Pesca tre Oh Devo tirarlo giù Un tottero del manga Ho davvero poco male Quello è un gran problema Cioè rispetto a lui Guardate Lo tirò gli giù Qualse i sei con volare Altrimenti sono nei guai Io sicuro non ho abbastanza mana Per giocarli No Posso giocare entrambi Allora gioco questo E gioco questo Non dovrebbe prendere Tre segnali di energia Quando entro in campo Sei energie Ah me li ha aggiunti dopo Perché l'ho giocato Forse troppo di Fretta Potenzio lui A sto giro Visto che Energia ne ho E andrei ad attaccare Con lui Sì Questa abilità aveva No niente Ok blocca Ci sta Altrimenti Ah Mi attiva Si attiva anche L'abilità là Oddio Cos'è Un Zeus Poteva ammazzarmelo Effettivamente L'ha solo indebolito Mostruosamente Un artefatto Un incantesimo Bersaglio Quindi Forse mi conviene Eliminare quello Piuttosto che Il tottero del manga Cribbio Ma sta andando malissimo Nonostante abbia Delle ottime Creature Non posso giocare Entrambi Ovvio Però Me l'ha tappato Però Se vado ad attacco Con tutti E tre Non posso Poi difendere Eh ma Tanto non avrei Potuto difendere Lo stesso Perché N'è uno Con volare E uno Per cui Ci perdo La creatura Gratis Quindi Meglio Infriggio Gli sei danni Nooo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo O concludo In fretta O perso Ok Guadagno 5 punti vita Se non ho altro Che ottimo E andrei A attaccare Sì Con tutti E tre Ok Ero verosimile Uno e uno Siamo Abbiamo perso Uno e uno Ma lui ha perso Anche due punti vita Sono discretamente soddisfatto Sono discretamente soddisfatto Sì Sì Andrei 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 Attaccare Con tutto Dovrei Fermarmi Due più Potenti Infatti E quindi Perderci Tutte le creature E quindi perderci tutte le creature Sì Sì Ho sbagliato tantissimo Sta partita Perché avrei dovuto giocarla Un sacco di volte Prima di giocare mana Visto che ho giocato Terre Ma È andata bene lo stesso Per fortuna Per fortuna Questa carta mi piace Mi piace come Come scala il Cucciolo di zanna lunga Yes Comunque sì Quella carta l'ho giocata malissimo Perché avrei dovuto giocarla Prima di usare Terre Invece ho usato Terre E l'ho giocata per ultima Ma Va bene È andata bene lo stesso Per fortuna Ma perché in questi giochi In generale L'obiettivo Non è quello di Non fare errori Ma di farne il meno Possibile Perché comunque Di errore Ne farai lo stesso Dopo essere riuscita A stento A fuggire Dalla trappola di Baral Chandra e Nissa Scoprono che in realtà Pia è stata trattenuta Alla fiera degli inventori Tezzeret non aveva mai Progettato di imprigionarla Invece Lui e il consolato Intendono fare di Pia Un esempio Con una competizione Di alto livello In occasione Della chiusura Della fiera Uzeus Qui dobbiamo andare A salvarla Di nuovo Da questo Rastaman Ma questo succederà Soltanto nel prossimo episodio Quindi io vi invito A iscrivervi Se per caso Non è stato già fatto Lasciare un mi piace Per supportare la serie E lasciare un commento Per dirvi Cosa avete pensato Di questa Epica sfida Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti E buona giornata Noi ci vediamo Grazie a tutti